Ripassiamo adesso la razionalizzazione. Quindi affrontiamo le tre razionalizzazioni che abbiamo studiato e che sono queste. Se io ho 2 più radice di 2 fratto 2 radice di 2, come le devo razionalizzare? Poi se ho 3 fratto radice di 5 più radice di 2, e l'ultimo caso, 2 meno radice di 2 fratto 2 radice di 3 meno radice di 6. E cioè il caso in cui ho un solo radicale e il caso in cui invece ne ho 2. Allora, nel caso in cui ho un solo radicale, per eliminare la radice sotto, devo moltiplicare sopra e sotto per radice di 2. Quindi per radice di 2 fratto radice di 2, perché è proprio la radice che voglio eliminare. Il 2 non ce l'ha già la radice, c'è la radice di 2, e quindi moltiplicando sopra e sotto per radice di 2, cosa ottengo? uguale. Allora, qui mi diventa 2 per, radice di 2 per radice di 2 fa radice di 2 alla seconda, e quindi va via la radice. Quindi avrò 2 per 2. E sopra invece, lasciamo un attimino, radice di 2 che moltiplica 2 più radice di 2. Quindi alla fine avrò, moltiplicando, ho 2 radice di 2 più radice di 2 che fa 2, tutto fratto 4. Posso raccogliere sopra il 2, quindi ho radice di 2 più 1 fratto 4, semplifico il 2 col 4, e alla fine il risultato finale è radice di 2 più 1 fratto 2. E quindi vedete che ho razionalizzato la frazione di partenza, perché la radice non è più sotto al denominatore. Facciamo quest'altro caso. Allora, quando ho la somma di due radicali, per poter mandar via la radice, devo moltiplicarlo per la differenza, quindi degli stessi radicali. Quindi avrò radice di 5 meno radice di 2, e anche sopra radice di 5 meno radice di 2. Così si forma sotto un prodotto notevole, e quindi moltiplicherò radice di 5 per radice di 5, radice di 2 per meno radice di 2. E quindi avrò 3 che moltiplica radice di 5 meno radice di 2 fratto 5 meno 2, che è uguale 3 per radice di 5 meno radice di 2 fratto 3, 3 e 3 van via, e mi rimane il risultato razionalizzato. L'ultima razionalizzazione invece, anche qui c'è una differenza, devo moltiplicare questa volta per la somma. Quindi facciamo subito per degli stessi radicali, quindi 2 radice di 3 più radice di 6 sia sopra che sotto, 2 radice di 3 più radice di 6 uguale. Allora, questo per questo diventa 4 per 3 fa 12, meno questo per questo diventa 6, meno 6, e poi sopra invece moltiplicherò normalmente, quindi ho 2 per 2 radice di 3, 4 radice di 3, 2 per radice di 6 più 2 radice di 6, meno radice di 2 per 2 radice di 3 diventerà meno 2 radice di 6, e poi ho meno radice di 12, uguale. Allora, questi due vanno via, 2 radice di 6 e meno 2 radice di 6, 4 radice di 3, il 12 cerchiamo di portare fuori, allora 12 è 4 per 3, quindi diventerà portato fuori meno 2 radice di 3, fratto 12 meno 6 fa 6, uguale. Allora, questi due si sommano tra di loro e diventa 2 radice di 3, fratto 6, semplifichiamo il 2 con il 6, e ottengo come risultato finale, radice di 3, fratto 3. Quindi, ricordiamoci quindi che quando ho la differenza, moltiplicherò per la somma degli stessi radicali. anche qui avevo una somma moltiplicato per la differenza degli stessi radicali. E così ho razionalizzato.